Doveva essere un grande summit quello di Lipsia in Germania, il paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Alla fine i leader si sono seduti faccia a faccia con la controparte cinese, tutti in collegamento streaming. Meglio di niente, perché ha dato all'Unione Europea la possibilità di bacchettare Pechino sul tema dei diritti umani e delle proteste in corso ad Hong Kong. I rumors sostengono che quando la pandemia lo permetterà il vero summit si terrà di persona. Per ora è tutto rimandato. In Brussels.